e bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di mortal kombat che è molto bello chi lo sapesse e chi li conoscesse questo gioco parlo di chi non lo sa è un combattimento brutale per esempio sia il telefono sia la playstation il più bello è la playstation perché sai quello originale quello più bello più figo non sto dicendo che squetterò acqua è uguale però devo fare con il dio invece con il joystick con i pulsanti vabbè combatti al fine del combattimento ti dice finish him che significa finiscilo oppure finisci lui e devi fare delle mosse che ti farà dei fatality ti taglia la testa ti spacca in due eccetera eccetera e niente qua è una cosa simile boh io ho stop zero link quei oni eccetera aspetta eh aspettate no ho sbagliato allora modifica io ho questi cinque questi due in basso questi qua due in basso non li uso mai perché a parte devo migliorare potenziali però sono scarsi invece quelli forti li sto usando adesso iniziamo partita mi faccio tre partite veloci poi boh sarà molto bello questo che è stato giro ha il potere del ghiaccio vittoria molto logico perché sapete non vedo l'ora che sub giro arriva a livello 20 che così sblocco questo qua aspettate questo qua che è molto bello bomba di gelo si sblocca a livello 20 che io sto a livello 16 e però oggi ci sono quasi e niente il mio preferito è oni quello che si vede qua perché per me è tipo più forte si vede alla faccia invece è più debole però boh prossima partita dopo questa torre che faccio faccio quella più difficile dove ero rimasto prima ok ok stop stop ah scorpion aia non mi piace scorta perché è un po' forte io faccio la scorta aia abbiamo tu vai un po' forte vittoria vittoria ok nivolo 17 anche lui ok guarda che bello scorpio tipo bello mmm vabbè la ganta ok anzi finisco solamente questa torre perché già dura troppo perché si vede già siamo cinque minuti quando ho fatto solamente cinque partite 5 3 boh adesso non ricordo quando siamo sette ore poi finisce il video sacchi pepe gli ho i cartoni in bocca poi dici mammina sabo zitto mi ha picchiato e ma sti cazzo dico anche la mamma bu dammi il cazzo pezzo di merda pfff perchè non ce lo rendo male perchè anche a me non mi provo con niente sto ancora ripetere per noi perchè è molto facile ok continuo oh prova la tua forza questo qua è bello adesso SubZero dovrà distruggere questo pesce no questo tronco in 6 secondi se riesco a portarlo all'ultimo ok io con il gioco ho fatto una scommessa aspetta lo faccio home anime gratis faccio offerta completa clicco no tra questi tre c'era un coin master tipo l'ho spinto l'ho installato perchè mi dava 300 e qualcosa di anime che io voglio comprare quella di jason così ce l'avrò è molto bello se andiamo a fare questa qua 184 lui mi ne dava 300 me lo posso comprare il pacchetto e basta questo è questo è se lo scambio il gioco aspettate eccoci qui ragazzi allora sto andando in quest'altro gioco molto bellissimo che non è vero però coin master che bello un bellissimo quante emozioni cazzo eh cosa dici che non c'ho connessione ce l'ho tutta la connessione sei down gioco di merda andete ragazzi qua massimo su massimo dai ci vediamo dopo il caricamento se no ci vuole troppo ci 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 sta un po' laggando eh infatti aspettate qui ragazzi ok aspettate che l'ho tutta sta roba ok mmm spinniamo ok ok eh dai voglio i soldi tanti soldi ok voglio ancora soldi soldi voglio soldi eh ma quando mi aiutai dei soldi no vedo che non hai del martello che cazzo allora è tutto distrutto qua che faccio lo faccio lo faccio benissimo a me se non posso fare niente però è bene mi ha detto mi ha detto se tu completi il livello 3 dove sono adesso mi dà questi soldi voglio vedere se sto bene perchè se il nostro gioco per niente da tutti questi sforzi sei zi basta ok mi dimentico sempre che posso fare così basta e beh ma oh ma ce l'ho a fare a me se il gioco mi dava si dei percorsi qua dico una cosa che esplode il mondo eh addio eh da questo non si parla un signino li trovo mai e questo è ragazzi niente da fare niente da dire eh spero che questo video vi sia piaciuto mettete like al video se volete un altro video di mortal kombat scrivetelo nei commenti iscrivete dai mattia vogliamo un altro episodio di mortal kombat dai 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 che bello dai 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 che sennò niente arriviamo al minimo a 12 like se siamo a 22 12 like lo capite ragazzi 12 non come altre volte che me ne date due e basta vabbè ciao ragazzi al prossimo video doodoo doodoo doodoo